Ciao a tutti, sono Stagi Marco del ristorante Bolle di Lallio a Bergamo. Questa sera a Risto Golf proporremo una lattuga in osmosi con un tuorlo marinato, alla base c'è un beurre blanc con una salsa tipica francese a base di burro, vino bianco e erba cipollina in questo caso e tutto spolverizzato da una polvere di rucola. La parte croccante sarà a quinoa soffiata e i veli saranno farciti di una maionese al pepe nero e una maionese al dragoncello.